Per respirare un po' meglio sono andato a Malè dove l'aria un pochettino più disintossicata, meno inquinata e più fresca e sono andato nel giardino di mia moglie e la mattina quando ci svegliamo, abbiamo l'iPad e sull'iPad abbiamo l'Adige, il Trentino e il Corriere e ci aggiorniamo. Arriviamo in Cronaca di Arco e vediamo un piccolo logo, un quadrettino piccolino dove c'è su due castelli e sopra due figurine, due cuoricini che si avvicinano con due fiocchetti, ma la verità sul primo momento non ci ho fatto neanche caso, ho pensato vabbè, però dopo, dopo di mangiare due fiocchetti, ma perché due fiocchetti ho due ometti, potrebbe mettere la faccia della donna, la faccia del maschietto, ma ci ho dato poco importanza. La cosa che invece mi ha dato fastidio è quello che c'era scritto sotto e allora ho pensato che forse è meglio che io giri col cravattino così, perché io girerò così, perché dall'articolo appare che insomma i matrimoni gay sono più importanti che i matrimoni normali, ragazzi. Adesso quelli che fanno un matrimonio normale o che magari convivono o che si sono sposati civilmente, direi che è tutta una categoria inferiore, non è paragonabile a chi ha un cravattino così e che ha vicino un compagno dello stesso sesso, perché oggi essere di sessi diversi, incomincio a pensare che sia una cosa che forse non è molto alla pace, alla moda, oggi bisogna essere un po' eccetera, eccetera, eccetera. È vero che quando io ero giovane questa categoria di persone veniva un po' presa in giro, forse non era giusto, questo è un racconto, è una checca, insomma c'era tutta una serie di atteggiamenti, però devo anche dire che si distinguevano facilmente, si capiva subito di che appartenenza erano. Oggi invece le cose sono cambiate, un po' per colpa del femminismo, perché questo a me non me lo cava nessuno, le donne a forza di essere esigenti, che se non è l'orgasmo, l'orgasmo chi, l'orgasmo là, l'orgasmo là, sti pori maschetti, se non per caso, l'egiaculazione è rapida, se salvi chi può, perché non so come che fa, perché a giorno d'oggi se non regalo l'orgasmo. Vedete, è un problema molto difficile, ma la cosa che a me dà fastidio, è la non obiettività, cioè per fare scena tutto il reparto, diremo giornalistico, aiutatemi, tutti quelli che fanno le... no, cos'è? in media, ecco, in media. E si è sposato in chiesa, poca notizia, si sono sposati due gay, ostia, in notizia tutti e due gay si è sposati, ostia, guarda che roba, importanza, col cravatino naturalmente, è giù di questo passo. Allora mi piacerebbe che ci fosse un po' più di obiettività, è giusto che siano cambiati i tempi, su questo sono d'accordo, perché ai miei tempi, ma, ma, era una omosessualità diversa, non è l'omosessualità che c'è oggi, non è l'omosessualità che c'è oggi, perché erano tipi diversi, non so se vedeva subito, oggi abbiamo persone che sono assolutamente maschili, non hanno nessuna caratteristica gay, eppure... ho ripetuto che è colpa un po' delle donne, sì, 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 e la causa di tutta sta baracca qua è la pillola, cari signori due che mi state guardando, perché quando io ho cominciato a lavorare nel 1950, l'ho detto più di una volta qua, non c'erano i vaccini, non c'erano gli antibiotici, ragazzi, non c'erano gli ansiolitici, non c'erano gli antidolorifici che abbiamo oggi, io vi racconto una cosa, ma bisognerebbe averla vissuta, mi ripeto, le cose bisogna viverle per capirle, il raccontato, ma sì, Tamanini che racconta che ha 90 anni, poi dopo immaginate che sarà che ha qualche col d'arterio, ma l'evento è stato l'arrivo della pillola, e noi, i farmacisti, così, anche i medici, l'abbiamo anche sottovalutato, ma il cambiamento non è stato un cambiamento chimico, non è stato un cambiamento terapeutico, ha dato anche una svolta alla moralità, perché se una donna prima della pillola era e cercava di mantenersi vergine, si manteneva vergine per due motivi, il gruppo relativo alla religione, dove allora era molto più sentita, per cui bisognava arrivare al matrimonio, e c'era tutto un fatto di solito, la seconda era legata alla fiffa, legava la paura di rimanere incinte, e siccome rimanere incinte non era l'aborto legalizzato come oggi, l'era un problema, specialmente quando non c'erano gli antibiotici, perché noi smì qualche d'una andava dall'altra parte per un'infezione causata da un aborto provocato, nelle maniere in cui noi conoscevamo molto bene. Allora, questo che cosa ha fatto? Ha lasciato la verginità di tipo religioso, è morta lì, anche se quella l'imponata supera il cammino, ma ammettiamo che ci sia. La seconda invece, che era di necessità, è andata a farci frizzere, perché con la pillola, che problemi che aveva? Non aveva più problemi, no? E allora, quello che era il rapporto sessuale, controllato, insomma, un po' particolare, ecco, direi controllato soprattutto, sta attento, te prego, per l'amor di Dio che non resta incinta, è cambiato, c'è stata la libertà. Per cui il rapporto sessuale è diventato un rapporto, sì, per una parte finalizzato alla prosecuzione della specie, per questo siamo stati creati e l'atto sessuale c'è, per la prosecuzione della specie. Lì è diventato anche, oltre alla prosecuzione della specie, anche, 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 si è dato peso alla parte, diremo, piacevole del divertimento dell'atto sessuale, perché l'atto sessuale, indubbiamente, se una non ha la probabilità di rimanere incinta, è, insomma, cambia completamente impostazione. Questa è la realtà dei fatti. il maschio, il maschio, il maschio, il maschio, il quale per sua natura la maggior parte non è che abbia l'erezione a quarto d'ora. Alle volte le agarca a secondi, per certi, e altri neanche a minuti, per certi. Allora, invece, la donna ha delle problematiche diverse. Per arrivare, per arrivare dove arriva il maschio, cioè per avere il piacere sessuale che nel maschio, parliamoci chiari, è dato dalla eiaculazione, per la donna le è un pochettina più lunga la storia, è un pochettina più lunga. Allora, siccome le è più lunga la storia, che cosa avviene? Che qualcuno la dice, ma, insomma, questo che è la eiaculazione rapida, l'orgasmo con questo che non è il go, e la trova un altro, invece, che magari, ha la fortuna che, due minuti ti saluto, magari li ha anche a cinque, e con quella prova questo piacere, e se quell'altro dall'eiaculazione la manda a farse bene dire, uno e uno fa due. Quindi qui la pillola ha cambiato. Ma cosa è successo, secondo il mio misero parere? È successo che il maschio, che viene abbandonato, e che perché ha la eiaculazione rapida, porfiolo, che non sa cosa fare, e dove si rivolge? I casi sono due, o la masturbazione, e che è una cosa anche legittima, oppure va con un altro maschio, perché andando due maschi assieme, l'eiaculazione è garantita, da una parte e dall'altra. Allora, non è che uno dica, ah, mi con l'eiaculazione, e lui non la gauda, come succede nel rapporto, perché lui ha avuto l'eiaculazione e mi l'orgasmo non mi gauda. Ah, com'è la storia? È la giusta che mi non abbia l'orgasmo, con l'altro che abbia avuto l'orgasmo. Allora, voglio dire, il problema poi, il bello è, perché non è affrontato, perché parlare di queste roba chi? Ve le parla il Tamanini, perché il parroco? Certamente di queste roba chi non ne parla, perché il Tamanini ha il sesso. Pensare che il Padre Eterno non ha creati per la prosecuzione della specie, mi sono convinto che Gesù non la pensava come ha pensato per 500 anni il clero, sono certo come sono qua, certo come sono qua. È stata vista in maniera particolare, come l'ho detto altre volte, dopo il 500, per tutta una serie delle storie, eccetera. Allora, io prego cortesemente i media, se ci ascoltano, che quando gli parla di che il porto è in plinzion de Galas, di Parigi e di Tamanini, che gli andai a sposarsi normalmente, e che normalmente gli stacco le mogli, oddio, che qualche desiderio possa essere extra coniugale, perché, cari signori, io ho sempre pegato a Sant'Andrea, mi guarda Sant'Andrea, le è fondamentale per me, perché quello prega tutte le volte, ma non è che mi abbia ascoltato, sempre per intercessione, perché la raccomandazione è quella di Sant'Andrea. Ad eschete mai le vale forze, leveme anche l'idea, leveme anche l'idea, e adesso che vado al mare, dopo domani parto e vado al mare, e che sarà molto di robe per cui l'idea purtroppo mi rimarrà. Buona vacanza!